Gli era scappato dal cancello e non ho fatto a tempo io a fare nessun tipo d'azione che questo cane si è avventato contro Lillo e io impauritissimo più di lui, allora il cane ce l'ha fatta a guantarlo però non ha affondato la bocca perché non ha nessun segno però io in quel momento ho tirato forte il guinsaglio quasi a fargli fare una mezza luna quasi piccandolo dalla paura l'ho preso subito in collo Eh sì, questo è quello che succede purtroppo molte volte Cosa fare in questa condizione come quella in cui si è trovato il mio cliente? Si spera naturalmente che non succeda mai una condizione del genere perché comunque è spiacevole per noi, per il cane ed è sempre un rischio, non c'è mai una certezza sul come comportarsi o come è giusto comportarsi Ci sarebbero delle teorie ma purtroppo ogni caso va preso a sé e si spera che in ogni situazione di questo tipo ci sia un bel po' di fortuna ma ci sono delle piccole regole che dovremmo seguire e che purtroppo è difficile seguire perché non sono istintive Ecco che a questo punto tutto quello che dobbiamo evitare è tirare il guinsaglio prendere il cane in braccio come ha fatto il mio cliente che è poverino trovandosi in una condizione di estrema difficoltà istintivamente viene di prendere in braccio per salvarlo, per proteggerlo però visto che il cane funziona in un altro modo non facciamo altro che peggiorare la condizione perché in questo caso il piccolo cane del mio cliente viene reso ancora più preda quindi rischiamo di ricevere l'attacco di quell'altro cane insieme al nostro cane e comunque lo vincoliamo quindi qualsiasi possibilità di attuazione di un protocollo da cani per stemperare o per mandarsi messaggi di calma e quindi evitare il conflitto questo viene impedito perché noi costringiamo il nostro cane ad esprimere la propria comunicazione ma sentiamo cosa ho consigliato io al mio cliente nel momento in cui io ho risposto Purtroppo questa è una cosa spiacevole, mi dispiace che sia capitato e tu non c'è tenuta naturalmente responsabilità del proprietario di quell'altro cane con cui andrei a parlare Intanto bisogna avere sempre un grande controllo dei cancelli, dei giardini, dei luoghi in cui teniamo il nostro cane perché può capitare a tutti naturalmente questo era un consiglio che io do da umano cioè vai a segnalare comunque il fatto che a questa persona gli sia scappato il cane perché non sempre se ne accorgono o comunque di fare attenzione la prossima volta Ma al di là di questo cosa succede? Più avanti si sentirà nell'audio che il mio cliente ha mandato che adesso a distanza di qualche giorno da questo fattaccio, da questo accaduto il suo cane è proprio impaurito e non riesce più a relazionarsi bene con lui Allora c'è cosa fare? Sicuramente quindi dobbiamo lasciare anche se non viene istintivo il guinzaio nel momento in cui ci vediamo attaccati da un altro cane non è una cosa ottimale ma è la cosa meno peggio che si possa fare nel senso che non dobbiamo preoccuparci tanto delle macchine se lasciamo il guinzaio eccetera lui non era vicino alle macchine presumo ma c'è un pericolo più grave siamo attaccati quindi non possiamo scegliere non abbiamo troppa scelta devi per forza lasciare che il cane faccia il cane cioè attuando una serie di protocolli vi dico subito una cosa la stessa cosa è successa a mia moglie qualche tempo fa e ve la racconto nel momento in cui mia moglie ha iniziato a frequentarmi avrà sentito e ha sentito più volte quello che io dicevo sui cani quello che dico sui cani una mattina si trovava a passeggio con la nostra Bassotta in una zona residenziale appunto dove abitavamo a un certo punto a sorpresa si vede puntare da un Doberman che era quindi un cane di grossa taglia che era scappato da una villa esattamente nella stessa condizione del mio cliente anche per il fatto che mia moglie aveva al guinzaio un cane di piccola taglia esattamente quello che è successo al mio cliente allora cosa ha fatto fortunatamente ragionando cioè agendo distinto probabilmente perché aveva imparato a zoppicare praticando lo zoppo istintivamente le è venuto appunto di lasciare il guinzaio Lola cosa ha fatto la nostra Bassotta e se era libera di muoversi e quindi ha sfruttato il fatto di essere piccola ha corso e si è rifugiata sotto una macchina quello ha determinato la salvezza di Lola ma anche di mia moglie perché il Doberman non potendo fare altro naturalmente è andato via tanta paura anche oggi mia moglie mi dice ma sicuro ho fatto bene sicuramente ha fatto bene certo che hai fatto bene cara Silvia il problema è che abbiamo ancora un dubbio dopo anni lei ha un dubbio perché il suo istinto da umana le dice ok ma è giusto lasciare il nostro cane quasi in balia dell'attacco e non proteggerlo dal punto di vista umano è chiaro che noi ci poniamo questo problema però purtroppo la via d'uscita e la soluzione migliore tanto che ancora ora Lola oggi è qui a vivere con noi e naturalmente mia moglie è qui tranquilla senza essersi beccata un morso dal Doberman questo ha portato quindi ad una salvezza di entrambi una cosa che non ci verrebbe per niente naturale fare allora se vi trovate in una condizione come quella di mia moglie oppure come quella del cliente sicuramente non dovete prendere il cane in braccio dovete mollare il guinzaio o sganciare il guinzaio e allontanarvi allontanarsi è importante perché intanto non interferite con quel conflitto o possibile conflitto che probabilmente attraverso i protocolli dei cani che i cani diciamo attueranno sicuramente potrebbe anche svanire mentre se noi stiamo lì anche alla nostra presenza cercando di interrompere urlando ai cani eccetera probabilmente potrebbe peggiorare la situazione naturalmente se c'è l'attacco vero e proprio cioè si sono attaccati dobbiamo trovare il modo di dividerli senza mettere le mani e magari buttando degli oggetti di sopra se avete una pompa con l'acqua o buttare secchiate d'acqua insomma tutto quello che ci può capitare per cercare di dividerli ma non mettete le mani o non vi avvicinate troppo perché potreste rimetterci qualche dito o qualche cosa vi dico che io per primo quando naturalmente non facevo questo lavoro ho commesso questo errore e ciò la vedete? no forse no qui una bella cicatrice che ho ricevuto da un cane che non era il mio ma era un cane buonissimo tra i due che si sono presi era quello più buono che vedendosi giustamente sollevato da parte mia erroneamente facendo una presa da dietro lui si è girato sentendosi preso pensando che qualcun altro lo stesse attaccando e quindi mi ha beccato qui un bel morso con tutto quello che ne consegue ho imparato la lezione e adesso ci penso bene ad avvicinarmi quando vedo due cani che in qualche modo si prendono il mollare il guinzaio stempera subito una tensione che noi diamo al nostro cane e quindi è molto probabile che tutto svanisca nel nulla c'è un'altra cosa però che possiamo fare allontanarci ma come il tuo cane lì che sta patendo sta avendo un problema e tu vai via e sì sempre per quel funzionamento del cane che è strano non è un funzionamento come quello dell'umano proprio per metterlo in salvo è importante sparire allontanarsi gradualmente quindi facendo dei passi indietro proprio per evitare che il cane che i due cani ricevano una nostra influenza negativa nella loro comunicazione nella loro interazione e quindi interferire e andando via richiamando il nostro cane è molto probabile che ci segua facilmente quindi lasci la condizione di interazione con quell'altro cane per seguire noi e andare via a quel punto siamo tutti un po' più tranquilli naturalmente sto parlando di una fase precedente all'attacco vero e proprio ma c'è un altro aspetto che riguarda appunto la condizione del mio cliente la fiducia che il suo cane adesso ha perso in lui cioè non si fida più di lui e perché è vero effettivamente che il mio cliente istintivamente comportandosi da umano non si è comportato da buon leader cioè quello che dovrebbe garantire la sicurezza del suo cane e quindi non farlo cacciare nei guai naturalmente lui non è responsabile il mio cliente ha agito istintivamente da umano però il suo cane questo non lo sa dice ok se io ero in tua presenza e comunque non sei stato in grado di evitare questo problema o di gestirlo bene tanto da prendermi braccio e peggiorare la condizione allora sicuramente io non posso più fidarmi di te cosa fare in questa condizione continuare con la propria routine quotidiana aspettando che il nostro cane riacquisti la fiducia in noi perché noi ogni giorno continueremo a comportarci da leader ecco che il cane ricrederà in noi e la prossima volta sperando che non capiti mai ci comporteremo da leader ci vediamo al prossimo video ciao